Facevano una facciata, anziché usare i pannelli in acciaio, c'erano dei pannelli, quelli che si usano, di carpenteria, fratici, è crollato giù da 20 metri e ci ha lasciato la vita. Giancarlo Ravasco, operaio con 30 anni di lavoro alle spalle nei cantieri edili, racconta l'incidente fatale con vittima un giovanissimo collega. Un settore, quello delle costruzioni, che ogni anno consegna alle statistiche, anche nella nostra regione, un bollettino di guerra fatto di decine di morti e infortuni gravi. Basta farsi un giro per Catania e rendersi conto. Anzi, ad oggi con questi fondi del PNRR ci sono molti cantieri aperti, ma i controlli sono sempre zero. Morti e feriti evitabili denunciano i sindacati con in testa Will e CGL che per domani hanno indetto due ore di sciopero. Operai rimasti invalidi o deceduti a causa di materiali di scarsa qualità per l'assenza di controlli o per la mancanza di dispositivi di protezione. E' infatti lungo l'elenco delle norme che vengono abitualmente eluse. Infine i contratti capestro, perché nei cantieri, spesso, gli operai sono assunti con contratti, per esempio da giardinieri. Un modo per quelle che vengono definite cattive imprese di risparmiare su formazione, sicurezza e stipendi. Si fa leva sul bisogno. Tu vai a colloco col datore di lavoro, ti allarga le braccia, ci vuoi stare così, se non ci vuoi stare là c'è la porta che la fila è lunga.